Francesca è di Bolzano a 39 anni e si definisce un'artista e una scrittrice ribelle, lei è la moglie di uno sceicco di Dubai. Il suo futuro marito, allora 46enne, non vogliono dare il passaporto agli stranieri, faccio una bella battaglia, un bel tagliare fa una bella battaglia, magari la gente guarda quello che dice, magari fare la banda. Il libro è questo, oltretutto io sono cristiana, io sono cristiana, a mia perdita e sai perché? Perché se io fossi musulmana, io essendo cristiana, se mio marito morisse da un momento all'altro, io in qualità di cristiana non ho diritto a niente e qui si sente la verità della mia posizione, che pure rimanere piano, grazie a Melanie F, ci vediamo tra poco, torna la regina del mattino, che è Federica Panicucci.